Non ha fatto mistero di essere rimasto piacevolmente sorpreso il presidente della Fondazione di Piacenza Evigevano Massimo Toscani quando ha avuto notizia dell'iniziativa messa in campo da Credita Agricol, 2 milioni di euro a favore del territorio piacentino. Un notevole tesoretto in eredità all'ormai imminente nuova gestione della Fondazione che insieme a Credita Agricol valuterà i progetti da finanziare. Sociale e culturale saranno gli ambiti di intervento. Siamo da sempre vicini ai territori, siamo un gruppo internazionale che si caratterizza per la prossimità. Il legame con la Fondazione, con dei soci stabili per noi è molto importante, ci permette di essere vincenti a medio e lungo termine. La Fondazione è tornata adesso al nostro punto di riferimento a fine 2018 e con lei abbiamo fatto tantissime bellissime iniziative a partire dalla mostra del Guercinale per arrivare ai progetti più recenti. Questi 2 milioni di euro vengono dati al territorio piacentino proprio perché sentiamo questo territorio un po' come la nostra casa. Qui ci sono i nostri clienti e vogliamo fare in modo attraverso la fondazione che ci farà da scouting per i progetti più importanti del terzo settore di essere presenti anche con un segno concreto e tangibile che daremo al territorio. Queste le priorità secondo Massimo Toscani. Sappiamo che c'è sicuramente un bisogno e c'è una necessità di superare questa emergenza educativa che è un problema davvero serio e c'è sempre un discorso culturale che non è vero che la cultura sia un costo, la cultura ha un investimento che porta con sé una ricaduta sempre molto interessante di movimento di persone e di altri interessi. Quindi welfare e cultura sono sempre stati un po' i capissà della fondazione e penso che rimarranno anche perché un discorso statutario a cui bisogna aggiungere secondo me a questo aspetto fondamentale della povertà educativa, di questa necessità che porta a investire nei confronti di soggetti più giovani. Grazie a tutti.